Cronaca nera da Taranto E ora, restando nel capologo ionico, parliamo di turismo e di trasporto di passeggeri Dopo alcuni furti subiti dalla ditta Marra Distribuzione SRL nella zona di San Basilio è arrivata la risposta dell'arma dei carabinieri Cinque ladri sono entrati in azione in un deposito di generi alimentari Questo deposito appunto situato nella zona industriale di San Basilio Mottola dopo essersi introdotti all'interno del magazzino avevano già caricato a pieno un grosso autocarro con tutta la merce possibile quando sono stati sorpresi dagli uomini dell'arma in flagranza di reato Tre di loro, si tratta di uomini di Cerignola con numerosi precedenti specifici sono stati immediatamente bloccati mentre due complici sono riusciti a fuggire Poi la merce è stata recuperata il valore ammonta a 30.000 euro e restituita naturalmente al legittimo proprietario e ora andiamo avanti